Tra conferme e novità l'Associazione La Zafarana di Tortora guarda al nuovo programma tante le azioni da mettere in campo per valorizzare il peperone rosso, la tipica zafarana tortorese, a tratteggiare la rotta dal sodalizio Giusi Mazzillo. Nell'Associazione della Zafarana sono state rinnovate le cariche perché sono passati cinque anni dalla costituzione dell'Associazione e ci sono delle conferme e delle novità. Per quanto riguarda le conferme è che è stato riconvermato il presidente Giuseppe Limongi così come il vicepresidente Michele Mageri. È stato allargato il direttivo da cinque a nove membri e c'è il segretario che è stato nominato nella figura di Fortunato Surage. Le novità sono di riconvermare alcuni appuntamenti come il mercatino che sono state iniziative di successo per l'Associazione, come il mercatino del chilometro zero, i rapporti con la scuola e di nuovo a Zafarana Fest 2015 che non sarà altro che una vetrina per tutte le attività diciamo che andrà a fare l'Associazione. Altre novità è che apriremo a breve una campagna di tesseramento per quando riguarda tutti coloro che vogliono avvicinarsi alle attività dell'Associazione, le porte sono sempre aperte. Gastronomia, musica e tradizione, cultura e agricoltura, valorizzare un prodotto locale per la riscoperta dell'identità, economia e sociale, la Zafarana di Tortora è soprattutto questo. Promuovere proprio le tematiche dell'agricoltura approfondendo e tutelando diciamo quelle attività che sono già sul territorio come le attività dei contadini oppure come abbiamo fatto con la ricerca dei semi e delle colture. Quindi l'Associazione della Zafarana vuole ancora una volta ricercare queste attività, promuoverle, sostenerle e farle conoscere anche agli altri.